Un progetto che viene presentato a Pescara dalla grande valenza sociale, il golf, lo sport in generale, entrano negli istituti penitenziari, in questo caso nella casa circondariale San Donato di Pescara. Potrebbe sembrare uno simoro, perché il golf è destinato così comunamente a persone che hanno accesso anche facoltosi. Noi lo abbiamo voluto portare all'interno dell'istituto del carcere di Pescara, proprio per dare un messaggio diverso, che tutti possono fare tutto, un grande democraticità. È un progetto vincente, in quanto sia da parte dei detenuti che ho assistito alle elezioni hanno aderito con grande passione e grande anche voglia di imparare. E poi ha anche un'altra finalità, perché non solo li tengono impegnati nell'attività fisica, servirà anche per conseguire un diploma, un certificato, che li permetterà un domani, quando usciranno, anche di utilizzarlo come professione, come istruttori. Può essere questo un progetto da replicare in altri istituti penitenziari? Sicuramente, infatti il progetto parte col carcere di Pescara e sarà esteso a tutti i nostri otto istituti di pena. Far entrare il golf all'interno delle carceri è un qualcosa che noi sognavamo da tempo. Ci siamo riusciti con questo progetto di sport e salute, che ci ha premiato, perché è un progetto nazionale. Noi abbiamo partecipato a questo bando. Sarà un bando di 18 mesi e quindi è molto interessante, perché le persone che parteciperanno non solo avranno modo tramite lo sport un po' di evadere, infatti chiama sport di libertà, ma soprattutto anche a fine corso di ottenere un brevetto che gli darà modo di continuare questo progetto anche al di fuori delle carceri. Un'anticipazione che questo sarà un progetto che noi ci servirà anche come test per fondi europei sullo sport e sul sociale. Ne abbiamo vinti già altri, siamo esperti in questo, ma poterlo portare in una situazione del genere e fare ancora più del bene ci riempie il cuore.